Chiamiamo a premiare Mario Leone, agente generale dell'Unipol, se vuole raggiungerci... Mario Leone, grande amico del premio Settricolli giallorossi. Ciao Mario, un benvenuto. Mario, sesta edizione di un premio che ti è diventato importante grazie anche a te. L'Unipol, Saurora, è sempre stata una compagnia di assicurazione vicino alla Settricolli giallorossi in Roma. Ha avuto per tre anni un suo dalizio importante e ha portato anche dopo il 70, a questo senso di ricorderare questa cosa. E quindi a me fa piacere in particolare essere presente sempre a questa edizione. Ormai sono sei anni che facciamo questa cosa insieme e mi fa piacere sempre farlo. Allora grazie, grazie andiamo a premiare, chi si aggiudica questo premio. Il premio della sesta edizione del premio Settricolli giallorossi va all'assessore al Comune di Roma, Rossella Sensi. Che dire, io sono emozionato, contento della tua presenza. Tu che il 99% dei rifugiati da Roma, la famiglia Sensi rappresenta tanto, rappresenta una Roma vincente soprattutto, con i fatti. Grazie. Grazie Fabrizio, grazie prima di tutto perché è una serata per me piacevole, mi dà la possibilità di riccontrare tanti amici che prima magari vedevo più frequentemente, per cui per tutto il fatto umano e personale. Poi ci tendo molto a ricevere questo premio, per cui ti ringrazio tantissimo. Insomma è sempre un piacere di ricevere il premio quando si parla di loro. Sesto premio Settricolli giallorossi alla dottoressa Rossella Sensi. Grazie per averci fatto rimanere grandi, perché grandi ci ha fatto diventare Franco Sensi. Grazie per averci fatto rimanere grandi, perché è un piacere di ricevere il premio quando si parla di ricevere il premio quando si parla di ricevere il premio. Grazie Rossella Sensi, c'è anche un omaggio musicale per tutti.